Buongiorno e benvenuti al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Le tribune sono piene, le vetture si avviano alla griglia di partenza e mancano una manciata di minuti al via. Mentre gli ingegneri danno un'ultima occhiata alle auto, scopriamo l'ordine di partenza di oggi. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! La finestra del stop si è aperta. Ok, stai risparmiando carburante, puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. Ok, abbiamo usato circa un quarto del carburante iniziale, quindi ne rimangono tre quarti. Non ho spermi, ha conquistato il primo posto. Mi raccomando, fermate i box a questo giro. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventurando la battiera gialla. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.